Cari amici del canale YouTube, dentro la notizia, benvenuti a questo nuovo e ricco appuntamento con quanto accaduto nelle ultime ore. Il giornale francese L'Eseco ha confrontato le strutture salariali delle principali istituzioni finanziarie europee. Pensate che l'anno scorso sono stati ben 643 i dipendenti di Deutsche Bank che hanno guadagnato almeno un milione di euro lordi, un numero significativamente più elevato del secondo gruppo classificato, la British Bank Barclays, dove sempre nel 2018 hanno lavorato solo, si fa per dire, 542 dipendenti con un milione e più di salario. La banca britannica asiatica, HSBC, si pone al terzo posto. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, come anticipato qualche mese fa in un TG Flash, ha nuovamente allentato le leggi sulle armi nel suo paese. Martedì ha firmato un decreto che, secondo una sintesi distribuita ai giornalisti, consentirà ai tiratori, ai cacciatori e ai collezionisti di viaggiare con le loro armi appresso. Inoltre, i brasiliani con licenza di armi potranno acquistare fino a 5.000 munizioni l'anno. Bolsonaro commenta così questo nuovo decreto. Ho sempre detto che la sicurezza pubblica inizia a casa. Siamo andati ai limite della legge, ma non siamo andati oltre la legge. Dobbiamo ricordare che il Brasile è stato colpito da un'ondata di violenza da anni. Nel 2017, per esempio, sono stati registrati 64.000 omicidi. Questo corrisponde a 31 uccisioni ogni 100.000 abitanti. Dobbiamo anche ricordare che le Nazioni Unite parlano di violenza endemica a partire da una percentuale tre volte inferiore. Le nuove previsioni economiche della Commissione europea, uscite ieri, indicano l'Italia come ultima nell'Unione Europea per quanto riguarda crescita, investimenti e occupazione. Quindi, nel 2019, l'Italia è prevista ultima, dicevamo, con il PIL a 0,1%, seguita dalla Germania 0,5%. L'Italia è anche l'unico paese dell'Unione Europea dove gli investimenti sono negativi, meno 0,3%, previsti sull'anno precedente. Anche l'occupazione è prevista negativamente nel 2019, con il meno 0,1%, che sarebbe l'unico segno meno in Unione Europea, guarda caso. In Italia, la crescita economica debole farà salire il deficit di bilancio al 2,5% del PIL nel 2019 e al 3,5% del PIL nel 2020, così ha affermato il Commissario Europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici. Sulla base delle regole del patto di stabilità e crescita, il prossimo anno l'Italia dovrebbe ridurre il deficit strutturale di almeno lo 0,6% di PIL, mentre le previsioni della Commissione indicano un peggioramento dell'1,2% di PIL. Lo scostamento per il 2020 dunque sarebbe dell'1,8% di PIL, che è pari a circa 30 miliardi di euro, che porterebbero quindi l'Italia ad essere costretta a realizzare una manovra di tale entità. Questo sempre secondo le previsioni della Commissione, che prevedono anche di non includere l'aumento di IVA e accise previsto dalle clausole di salvaguardia per il 2020, proprio perché il Governo ha già annunciato di volerle sterilizzare. Secondo la Commissione europea, la spesa pubblica aumenterà in modo significativo a seguito dell'introduzione del reddito di cittadinanza e di diverse disposizioni in materia di pensioni, tra cui un nuovo regime di prepensionamento. Il nuovo sistema di reddito di cittadinanza potrebbe indurre più persone a iscriversi ufficialmente come disoccupati e quindi a essere conteggiate nella forza lavoro. La Commissione prevede inoltre che in linea generale in tutta l'Unione europea vi siano importanti rischi a ribasso, molti dei quali sono legati a cattive politiche economiche, per usare le parole della Commissione, come nel caso dell'Italia. A noi si chiedono due cose difficilmente conciliabili. Da una parte manovre di austerity come politiche fiscali orientate verso la riduzione dell'alto debito e dall'altra manovre espansive, cioè misure strutturali volte alla crescita sostenibile. La Spagna nel 2019 dovrebbe crescere del 2,1%, la Francia dell'1,3%, addirittura il Regno Unito. Ancora le prese con la Brexit e le relative incertezze che pesano sui investimenti è atteso in crescita nel 2019 dell'1,3%. Che dire di queste previsioni dei tecnocrati europei? Commentando le stime di crescita dell'economia italiana rilasciate ieri, il presidente del Consiglio Conte ha detto «Le previsioni della Commissione europea mi sembrano dir poco ingenerose, perché lo 0,1% che ci viene accreditato, tenuto conto del dato uscito dal primo trimestre, significa che non cresceremo più e che le misure che abbiamo adottato con la manovra economica, decreto crescita e sblocca cantieri, non consentiranno nessuna prospettiva di crescita economica. Sono valutazioni ingenerose. La realtà è che mi sembra un atteggiamento pregiudizialmente negativo. Non valutare che le misure non avranno alcun impatto». Ci aspettiamo per il secondo semestre una crescita che speriamo sostenuta. Abbiamo un percorso di politica economica e sociale e lo perseguiamo con determinazione. In una nota i membri delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera del Movimento 5 Stelle specificano «Non siamo stupiti dalle nuove stime della Commissione europea sul PIL nel 2019. Dopo aver predetto la catastrofe qualche mese fa, continuano le ostilità da parte di personaggi le cui previsioni sono già state più volte ampiamente smentite dai fatti. L'obiettivo è chiaro. Colpire un governo ostile ai diktat di Bruxelles e che vuole fare gli interessi degli italiani. L'assurdità delle nuove stime della Commissione, sulla base delle quali verranno espressi i verdetti sul rispetto o meno delle regole di bilancio, sono facilmente riscontrabili. Basti pensare che dopo l'imprevista crescita del PIL nel primo trimestre, la crescita acquisita per il 2019, ossia ipotizzando la crescita zero nei prossimi tre trimestri, è pari allo 0,1%. La Commissione europea stima per il 2019 una crescita dello 0,1%, assumendo quindi un PIL in piena stagnazione nel proseguo dell'anno. Eppure le principali misure contenute nella manovra economica, come il reddito di cittadinanza e la quota 100, nonché il decreto crescita, inizieranno a dispiegare pienamente i loro effetti solamente nella seconda metà del 2019. Il tentativo di colpire politicamente questo governo, ricorrendo a stime farlocche e minacce di sanzioni, non sortiranno alcun effetto. Governo e Parlamento sono compatti e consapevoli della bontà delle scelte operate sin qui. Il 26 maggio saranno i cittadini italiani ed europei a bocciare i burocrati di Bruxelles. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha revocato l'incarico al sottosegretario Armando Siri. Il decreto di revoca è stato adottato al termine del Consiglio dei Ministri avvenuto senza votazioni, ma dopo un dibattito che fonti della Lega hanno definito civile, confermando le parole di Conte che ha detto «è stata una discussione franca e non banale, perché ho ritenuto questo un passaggio politico e non meramente burocratico amministrativo. Quindi c'è stato un confronto leale e aperto, all'esito del quale c'è stata piena fiducia nel mio operato». Viktor Orban ha tolto il suo appoggio al candidato di punta del PPA Manfred Weber. Parlando a Budapest, il Premier ungherese ha detto che l'esponente politico tedesco ha fatto capire chiaramente di non voler diventare Presidente della Commissione europea con i voti degli ungheresi, il che esclude, a suo dire, qualsivogli appoggio da parte dell'Ungheria. Orban ha fatto queste dichiarazioni, come riportano alcuni media tedeschi, a margine di una conferenza stampa a fianco del vicecancelliere austriaco Heinz Christian Strache. È recentissima la proposta dello stesso Premier ungherese che il Partito Popolare europeo cooperi con le formazioni sovraniste e della destra populista, a cominciare dalla Lega di Matteo Salvini. Un'idea però respinta da più fronti. A rifiutare qualsivoglia collaborazione, prima e dopo le elezioni europee, con i sovranisti, sono stati inizialmente il cancelliere austriaco Kurz, seguito poi dal leader della CSU bavarese Markus Söder, poi la stessa cancelliera tedesca Angela Merkel e la leader della CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, oltre ovviamente a Manfred Weber. Per quanto riguarda le elezioni europee, se Orban se ne va, il PPE può perdere fino a 14 seggi, cosa non da poco per il Partito Popolare. Da Lungheria e da Fidesz dovrebbero infatti, secondo i sondaggi, arrivare tra i 12 e i 14 seggi al prossimo Parlamento europeo. Poltrone che andrebbero invece alla formazione sovranista, che guadagnerebbe ancora più potere contrattuale. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha rivendicato in una conferenza stampa ieri a Bruxelles i successi ottenuti e le promesse mantenute durante il suo mandato. Per Juncker i risultati più importanti sono quelli conseguiti in campo economico. Queste le sue parole. Lavoro, crescita e investimenti sono tornati a livelli pre-crisi. Dopo la crisi finanziaria siamo già nel settimo anno consecutivo di crescita, grazie al piano Juncker, che ora si chiama in un altro modo. Il livello di investimenti è tornato ai livelli pre-crisi e abbiamo mobilitato quasi 400 miliardi senza creare indebitamento pubblico, ma mobilitando nuovi strumenti finanziari. Oggi lavorano nell'Unione Europea 240 milioni di persone e il tasso di occupazione è a livelli record. È passato dal 69,4% nel 2014 al 72,3% oggi e pensiamo di poter arrivare al 75% entro il 2020. La disoccupazione giovanile è al 14%, sempre troppo alta, ma inferiore del 7% rispetto al livello dell'inizio del mio mandato. Juncker prosegue. La gente nell'Unione Europea oggi sta meglio. Anche se la distribuzione della prosperità e del benessere è sempre ineguale, la ricchezza è aumentata del 5,7%. L'euro è una moneta stabile. Il tasso medio di inflazione è stato dell'1,8%. Abbiamo creato un'Europa in cui si parla di più di diritti sociali, diritti dei consumatori, anche online, protezione dei dati e dell'informazione, riduzione dei rifiuti di plastica. Dal 2014 i salari sono aumentati in media del 5%. I deficit pubblici sono calati notevolmente. Ora siamo a una media dello 0,6% del PIL, mentre nel 2010 eravamo al 6,2%. Sono stato molto criticato nei paesi di lingua tedesca perché è accusato di aver trasformato il patto di stabilità in un patto di flessibilità. Ma senza la flessibilità che abbiamo introdotto, la crescita oggi sarebbe stata minore e la disoccupazione più alta. Eh sì, tutte queste belle cose che Juncker dice di aver realizzato, però in Italia non si sono viste. Alcuni ritengono che siamo stati trascurati, altri invece pensano che siamo stati noi a pagare il conto, avvantaggiando i paesi del nord Europa, a nostro scapito. Voi cosa ne pensate? Siamo categoricamente contro le ostilità in qualsiasi luogo, in violazione del diritto internazionale. L'uso della forza può essere autorizzato solo dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o la forza può essere utilizzata in risposta all'aggressione contro uno Stato sovrano. Così ha dichiarato Lavrov dopo i colloqui con il segretario di Stato americano Mike Pompeo nella città finlandese di Rovaniemi. A questo punto un giornalista della CNN ha chiesto al ministro se la Russia fosse in grado di fermare l'intervento degli Stati Uniti e in Venezuela, se Washington decidesse di fare un passo avanti in tal senso. La domanda provocatoria ha fatto scattare in Lavrov una pronta risposta con le seguenti pungenti accuse. Alcuni definiscono la tua agenzia una fake news, ma ora stai facendo una domanda fake. Quindi Lavrov ha ricordato i numerosi tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in cui accusa il canale televisivo di diffondere informazioni false. In precedenza il governo della Repubblica Bolivariana aveva deciso di bloccare CNN in spagnolo su internet. I rappresentanti della Commissione Nazionale delle Telecomunicazioni del paese sudamericano avevano infatti osservato che il contenuto delle trasmissioni della CNN costituisce, letteralmente, un attacco diretto contro la pace e la stabilità democratica del popolo venezuelano. Carlo Cottarelli ha dichiarato che la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina rappresenta un rischio di attacco speculativo. Qualsivoglia fattore di indebolimento del ciclo economico mondiale, tipo il rallentamento della crescita americana, farebbe tornare il nostro paese in recessione. E lo dico in particolare considerando la fase nella quale ci troviamo proprio adesso, perché i dati statistici mostrano che sono solo le esportazioni a trainare la nostra economia, mentre la domanda interna langue. Dunque una eventuale guerra commerciale sarebbe per noi davvero pesante. Il numero degli italiani che lasciano il paese in una nuova emigrazione è in crescita ed è superiore a quello che le cifre ufficiali raccontano. Ad affermarlo è stato il direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina, Luigi Maria Vignali, con queste parole. Negli ultimi 5 o 6 anni abbiamo registrato un aumento di oltre un milione di italiani negli schedari consolari e ha ricordato che all'Istat parlano di 115.000-120.000 partenze all'anno, precisando che gli italiani che partono e che sono all'estero sono molti di più di quello che le cifre ufficiali non dicano. E non si tratta solo di una fuga di cervelli. Ci sono anche, come dice Vignali, tante persone con livello di istruzione media o anche medio-bassa. Non siamo più alle miniere del Belgio, dove si moriva, ma tanta gente si muove, anche interi nuclei familiari. Un funzionario del governo italiano è stato ritrovato morto in una pozza di vomito con una ferita sotto il mento, domenica notte, a Parigi, poco lontano dall'hotel dove soggiornava nel distretto di Montmartre. Questo lo riferisce il sito internet del quotidiano Le Pond, precisando che l'uomo Massimo I, 50 anni, era membro dei servizi segreti italiani. Massimo aveva con sé un biglietto da visita con il suo nome e il logo della presidenza del Consiglio dei Ministri. La Procura di Parigi ha aperto un fascicolo di indagine mirate a far luce sulle cause della morte. Secondo i primi accertamenti, Massimo era arrivato nella capitale francese il 3 maggio con un volo partito da Roma e atterrato al Charles de Gaulle. Nella sua stanza d'albergo, chiusi in una cassaforte, sono stati ritrovati una chiave di sicurezza criptata, una busta contenente 85 banconote da 20 euro, una chiavetta USB, un adattatore per schede SD e una scheda SD. Tutto materiale sequestrato dalla polizia che è ora al baglio degli inquirenti. Cari amici, iscrivetevi numerosi al canale YouTube Dentro la Notizia, aiutateci a diffondere i video e se apprezzate il lavoro che stiamo facendo nell'interesse di tutti, sosteneteci con una donazione che ci permetta di continuare. Un abbraccio dal vostro Roby.